Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono 7 km di coda per un camion fermo in avaria al km 305 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Per il traffico intenso rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud e tra Firenze Sud in Cisa Reggello. In A11 un km di coda per veicolo fermo in avaria tra Chiesino Zanese e Montecatini in direzione Firenze. Spostandoci sulla FIPILI rallentamenti tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno. Possibili disagi per cantieri al km 17 tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!